Buonasera tifosi di Frosinone Latina. L'avete aspettata tanto, avete tante cose da dire. Adesso ci siamo. Siete comodi? Avete qualcuno dell'altra squadra accanto? Stringetegli la mano, si fa così. Adesso mettetevi sulla punta della poltrona, alzate il volume, concentratevi. Vi stiamo portando dentro, vi stiamo portando dentro le emozioni. Grazie a tutti. Guarda, provittore, l'appaggio per Ganci, Ganci, Ganci! Frosinone in vantaggio. Cola in area di rigore, ancora cola. Dentro per Barraco! Che da due metri non sbaglia! Arriva adesso il traversone di Aurelio Satoru! Il ruccito del leone sotto la nord. E Sacilotto non sbaglia! Alla prima da titolare, lui sgrabbia e Sacilotto. Mette dentro da due metri. E' solo una partita di calcio. Ma è la partita di calcio.